Ricomincio. Dicevo che ho ascoltato con molta attenzione tutte le dichiarazioni dei vari gruppi e mi permetta di dire che probabilmente nonostante tutte le accuse che vengono fatte e rivolte al Movimento 5 Stelle, forse qualche cosa con un piccolo segno lo abbiamo lasciato, in quanto a più voce ho sentito una richiesta del rispetto della legalità e delle norme. Proprio per questo abbiamo deciso di firmare questa mozione perché non solo va in questo senso sia nel rispetto della legalità, delle normative, dei contratti firmati, ma anche per dare un indirizzo forte agli uffici nella soluzione di questo problema, che sicuramente è molto importante per il territorio, anche se comunque è una piccola parte di tutto il programma del recupero urbanistico della zona del Laurentino. Ho sentito anche delle imprecisioni però perché si parla ancora di questo ponticello che in realtà dovrebbe collegare il quartiere al centro commerciale, a questa piazza pubblica, che poi è l'opera pubblica numero 34 del piano. Quindi questo ponticello che purtroppo è stato escluso dalla Convenzione, non è proprio neanche menzionato nella Convenzione perché la giunta Alemanno decise che sulla Laurentina passava il corridoio filo tramviario e quindi era incompatibile con l'opera di mobilità che si andava a realizzare. Quindi non ci possiamo ancora appellare al manca il ponticello perché non è mai stato inserito nella Convenzione quindi nessuno lo realizzerà mai, a meno di nuovi accordi. Resto un po' basito dal fatto che il problema dell'annunciata apertura del centro commerciale per la fine di ottobre non ho sentito nessuna delle opposizioni parlare dei lavoratori che sono stati già assunti dagli esercenti commerciali e stiamo parlando di 2.500 persone e mi fa specie che le opposizioni che sono sempre state i paladini dei lavoratori, dei più deboli, non ne abbiano fatto minimamente menzione. Io sto ricevendo ogni giorno messaggi di questi lavoratori, addirittura uno da Bari che mi chiedeva ma che faccio, prendo l'appartamento in affitto a Roma perché ho il contratto e devo venire a lavorare? E questo è un problema ulteriore che si innesca in questa vicenda che però non può prescindere dal rispetto degli accordi presi con i proponenti. Noi come Movimento vorremmo tenere in considerazione anche tutte queste povere persone, soprattutto in considerazione del fatto che tra poco scadrà anche la cassa integrazione perché molti sono persone che sono in cassa integrazione perché dovevano andare a lavorare là e avevano un negozio da un'altra parte e verrebbero spostati lì. E ci vorremmo far carico anche di questa problematica. Ma comunque fondamentale è il rispetto della Convenzione, di quanto pattuito e non solo ma anche la rapidità con cui verrà eseguito tutto perché c'è anche un problema di tempi. È vero che per il comparto dove insiste la nuova sede del municipio ci sono anche altri cinque anni come dichiarato nella Commissione di Trasparenza dall'architetto Esposito. Comunque vigileremo affinché venga rispettato il tutto. Per tutti questi motivi vorrei consegnare il voto favorevole a questa mozione da parte del Movimento 5 Stelle. Grazie.